È stata presentata ad Ancona, nella sede della Regione Marche, l'undicesima edizione di X Masters, in programma a Senigallia dal 16 al 24 luglio. X Masters è un evento dedicato agli action e sport che fonde wellness e divertimento, DJ7 e momenti di riflessione su inclusività ed ecosostenibilità all'interno di un'area di oltre 40.000 m2 in riva al mare. È uno degli eventi centrali della nostra stagione, serve ovviamente da un punto di vista turistico ma serve soprattutto per un discorso relativo all'aspetto sociale, soprattutto quest'anno che si allarga anche a settori che sono diversi e soprattutto per il problema giovanile. Quindi è un momento che Senigallia rafforzerà sempre di più per quelli che sono i risultati e a livello turistico e a livello sociale e a livello soprattutto dell'intera cittadinanza. Una grande opportunità perché il mondo dello sport è per definizione un mondo di inclusione, un mondo di socializzazione, è un mondo di accoglienza. Quindi abbiamo pensato con il Comitato Nazionale Paralimpico di cogliere questa opportunità e portare il mondo sportivo della disabilità all'interno di questo evento per affermare, testimoniare il messaggio di grande inclusione che il mondo dello sport darà e garantirà tra lo sport per normo dotati e lo sport per disabili. Per noi rappresenta finalmente che siamo entrati nella famiglia perché già l'altro anno avevamo collaborato portando il Rebby per i sordi e altre attività. Quest'anno con un nostro stand, con l'E-Nail, diciamo così in coabitazione, esploriamo sia la parte prettamente sportiva e quella tecnica da un punto di vista per tutto quello che sono le protesi, tutti gli ausili che vengono utilizzati dagli atleti. Ma la cosa importante è che quello che si fa nello sport poi serve nella vita di tutti i giorni. Ho organizzato quest'anno un evento assolutamente alla grande cercando di riproporre fondamentalmente quello che è stato due anni fa, sì perché l'anno scorso è stato un evento assolutamente riuscito ma con altri numeri. Quest'anno proponiamo ovviamente un evento che spero che superi le 70.000 presenze. Un evento X Masters come sempre organizzato su 40.000 metri quadri di spiaggia con oltre 20 discipline sportive e quindi ci aspettiamo tanti sportivi ma anche tanto pubblico che verrà semplicemente a guardare o a farsi 9 giorni di mare.